Abbiamo i nostri soliti 20 minuti, continua questa guerra al coronavirus, la situazione più grave resta al nord e preoccupa la situazione a Milano. Intanto ci sono più morti che in Cina, ma tra poco, alle 21, esattamente tra pochi minuti, il video messaggio di Papa Francesco. Lo seguiremo insieme ai nostri ospiti che sono pronti, ne facciamo le domande, sigla. Eccoci qui, prima di dare la linea al video messaggio di Papa Francesco, vi presento subito i nostri ospiti collegati con noi questa sera. Lo vedete, lo studio è vuoto, abbiamo l'onorevole Stefano Buffagni che è vice ministro allo sviluppo economico, è collegato con noi, da qualche parte la vedo, eccolo, buonasera a tutti. E poi invece andiamo a Bari dove c'è Michele Emiliano, il governatore della Puglia. Buonasera. Buonasera. Allora, stiamo aspettando a minuti questo video messaggio di Papa Francesco, vedremo che cosa ci dirà e cercheremo di commentare insieme. Intanto abbiamo sentito che la situazione resta critica perché a quanto pare una domanda che faccio a tutti e due sta per cominciare, quindi ve la faccio appena finisce il video messaggio di Papa Francesco. Sentiamo. Buonasera. 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 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace del Signore sia con tutti voi. Siamo riuniti insieme in una comunione che abbraccia l'intero nostro Paese. Siamo riuniti nelle case dove l'emergenza sanitaria ci costringe. Siamo riuniti per non arrenderci alla paura che isola e dispera e per trovare nel Signore la speranza e la forza con cui affrontare anche questa grande sofferenza. La nostra preghiera è preghiera di tutta la Chiesa. In tante parti del mondo, in questo stesso momento, le comunità cristiane sono in preghiera per noi e con noi. Di questa preghiera si fa voce il Santo Padre che, da pastore universale e primate della Chiesa che è in Italia, ha voluto essere con noi. È Papa Francesco ad aprire il nostro rosario. Cari fratelli e sorelle, mi unisco alla preghiera che la Conferenza Episcopale ha voluto promuovere quale segno di unità per l'intero Paese. In questa situazione inedita, in cui tutto sembra vacillare, aiutiamoci a restare saldi in ciò che conta davvero. È un'indicazione di cammino che ritrovo in tante lettere dei vostri pastori che, nel condividere un momento così drammatico, cercano di sostenere con la loro parola, la vostra speranza e la vostra fede. La preghiera del rosario è la preghiera degli umili e dei santi che, nei suoi misteri con Maria, contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre, e quanto bisogno abbiamo tutti di essere davvero consolati, di sentirci avvolti dalla sua presenza d'amore. La verità di questa esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in questo momento coincidono con i familiari più stretti. Facciamoci prossimo l'uno dell'altro, esercitando noi per primi la carità, la comprensione, la pazienza, perdono. Per necessità, i nostri spazi possono esserci ristretti alle pareti di casa, ma abbiate un cuore più grande, dove l'altro possa sempre trovare disponibilità e accoglienza. Questa sera preghiamo uniti, affidandoci all'intercessione di San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, custode di ogni nostra famiglia. Anche il falegname di Nazareth ha conosciuto la precarietà e l'amarezza, la preoccupazione per domani, ma ha saputo camminare al buio di certi momenti, lasciandosi guidare sempre, senza riserve dalla volontà di Dio. Proteggi, santo custode, questo nostro Paese. Illumina i responsabili del bene comune, perché sappiano, come te, prendersi cura delle persone affidate alla loro responsabilità. Dona l'intelligenza della scienza a quante ricercano mezzi adeguati per la salute e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si spende per i visioniosi, i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolonialità. Me lo dice Giuseppe la Chiesa. A partire dai suoi ministri, rendola segno e strumento della tua luce e della tua bontà. Accompagni a San Giuseppe le famiglie con il tuo silenzio orante. Costruisce l'armonia tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli. Preserva gli anziani dalla solitudine. Fa che nessuno sia lasciato nella disperazione, nell'abandono e dello scoraggiamento. Consola chi è più fragile, incoraggia chi vacilla, intercede per i poveri. Una Vergine Madre sopplica al Signore perché liberi il mondo da ogni forma di pandemia. Amen. E questo è il contenuto del videomessaggio del Santo Padre. Allora, Vice Ministro, partirei da lei. Spazi ristretti, ma abbiate un cuore più grande, dice Papa Francesco. Sì, beh, direi che il Papa assolve appieno il suo ruolo e direi che è una certezza per tutti. Dopodiché noi ci dobbiamo occupare di gestire chi invece soffre, tutta la gestione emergenziale degli ospedali che sono al collasso e tutta la gestione per evitare che aumenti questo virus, questo nemico invisibile e continui il contagio. Credo che le parole sagge del Papa debbano essere utili anche un po' agli italiani perché colpisce che abbiamo più di 40.000 contagiati, ma abbiamo al contempo più di 50.000 denunciati perché non rispettavano le regole che sono state imposte e perché erano in giro senza un motivo. Quindi forse è il caso che tutti comprendano che stare a casa non è uno scherzo, ma è una necessità per tutelare la salute di tutti. Quindi oltre alle preghiere serve anche il buon senso di ciascun italiano che è fondamentale in questa battaglia. Vabbè, certo. Il Papa fa il suo, poi c'è la politica, poi ci sono i cittadini, ognuno ha la sua responsabilità. Governatore, lei tra l'altro oggi nel giorno di San Giuseppe ha scritto su Facebook proprio di avere attenzione per i propri genitori. Insomma ha richiamato un po' alla responsabilità personale dei cittadini. Chiaro che è una giornata particolare per molti di noi. Molti padri lo hanno perso da qualche ora o da qualche giorno, anche chi l'ha perso da più tempo come me, in circostanze meno drammatiche, che però sente il bisogno di proteggere queste persone. Perché è vero che probabilmente non lavorano più, non producono più quello che sapevano fare una volta, ma sono persone importantissime per tutti noi e che possono costituire, questa è la loro funzione, il nesso tra le generazioni. Sono quelli che ci hanno trasmesso valori. 13 medici hanno perso la vita in questi giorni e lo hanno fatto probabilmente perché un papà o una mamma gli hanno insegnato alcuni valori e stanno combattendo, come è capitato a questo paese in tanti altri casi, molto difficili, la lotta alla mafia, la resistenza. Sono momenti che noi ricordiamo con tanto dolore, ma anche con tanto orgoglio, perché in questo momento vedo che finalmente sentirsi italiani tutti insieme è un fatto bellissimo per tutti. Viceministro, dicevamo la situazione resta critica, perché a vedere i numeri le misure non sembrano essere sufficienti a contenere il contagio, come diceva anche lei. Si parla di una possibile ulteriore stretta. Lei pensa che si possa fare? Si parla anche dell'utilizzo dei militari? Che cosa si può ulteriormente stringere cercando di garantire comunque sia la tutela della salute ma anche di non gravare ulteriormente sull'economia del paese? Lo so, è un difficile compromesso. Dottore, innanzitutto io credo che ciascuno di noi debba fare la sua parte, quindi in questo momento ci sono delle discussioni in corso tra il governo, le regioni e l'Istituto Superiore della Sanità per comprendere qual è la strategia migliore. Ci sono alcune zone che potrebbero richiedere degli interventi magari un po' più rigidi, in particolare quelle zone che sono definite potenzialmente zone rosse, dove forse se, come ho detto prima, gli italiani non riescono a capire che stare a casa serve a loro stessi, a salvare i loro cari, a salvare i loro concittadini, bisognerà prendere e ragionare se bisogna prendere misure ancora più stringenti. Dopodiché io sentivo oggi qualche collega durante le call che abbiamo fatto, per esempio a Roma, che dicono che tante persone, quasi tutte, stanno rispettando queste prescrizioni, quindi ripeto, non è un gioco. Qui si parla di morti, si parla di cittadini che muoiono senza neanche l'affetto dei loro cari vicini, perché non possono avere contatti. Avete visto tutte le immagini di ieri sera di Bergamo, dove i militari con i loro camion sono venuti ad andare a prendere le bare per spostarle in altri territori, cioè è una situazione da guerra, con un nemico invisibile, dove ciascun italiano deve fare la sua parte. Se, nei casi in cui non saremo in grado di farlo tutti, gli italiani verranno obbligati in qualche modo a rispettare, nell'interesse di tutti, determinate dinamiche. Credo, ripeto, sia una questione di responsabilità. Lei è distante da tutti, e lì da sola io sono a casa, il governatore è, immagino, a casa sua, nei suoi uffici, perché dobbiamo rispettare queste regole che sono nell'interesse di tutti. Governatore, come sta andando invece in Puglia? Secondo lei ci sarà bisogno di un'ulteriore stretta oppure le cose stanno funzionando? C'è ancora troppa gente che pensa di essere invulnerabile. Purtroppo non è così. In Puglia abbiamo ad oggi 478 casi positivi. Devo dire che sono tre giorni di seguito che i casi aumentano, ma sempre della stessa cifra, più o meno. Questo ovviamente non lo voglio neanche dire, ma è un buon segno. Evidentemente la gran parte dei pugliesi che si è chiusa in casa sta dando una risposta all'incremento del virus. Nel frattempo abbiamo rivoluzionato completamente i nostri ospedali. Si parte dai pronto soccorso che hanno cambiato completamente aspetto. Si arriva ai reparti per infettivi che hanno in questo momento 173 ricoverati. Poi nei casi più gravi si arriva alle terapie intensive che adesso hanno 31 ricoverati. Sono ancora numeri piccoli che speriamo rimangano tali perché in questo modo riusciremo a curare tutti e a consentire a ciascuno di giocarsi le proprie chance rispetto all'eventuale contagio. Ma siete riusciti a fare percorsi separati per chi arriva con delle difficoltà respiratorie con sospetto coronavirus? Questo è inevitabile, ma come ho sentito anche in precedenti interventi da parte di medici, i reparti che noi avevamo definito no covid, cioè quelli che dovevano continuare a gestire l'oncologia, la ginecologia, tutta la medicina d'urgenza, evidentemente hanno molti casi che stanno diventando covid. Quindi bisogna avere all'interno del percorso no covid un doppio canale in modo tale da poter gestire. È successo, per esempio, che abbia partorito una donna con il covid. Tutto bene, la piccola, la sua bimba, non si è contagiata. E viceversa c'è anche successo che una bimba un po' più grande di due mesi abbia preso il covid successivamente assieme alla madre. Quindi i casi sono infiniti. Colgo l'occasione ovviamente per ringraziare tutto il personale della sanità pugliese, perché la nostra è una sanità, diciamo così, regolare, è una buona sanità quella pugliese. Però non siamo potenti e grandi come la Lombardia. Ciò nonostante si stanno battendo. Ribadisco ancora una volta, ci mancano i dispositivi di protezione individuale. Ci stiamo arrangiando in una maniera drammatica e ci mancano circa 230 ventilatori per essere sicuri di poter superare il picco che arriverà probabilmente a fine mese. Allora, dicevamo che la situazione più grave resta quella in Lombardia. Un dato che preoccupa è l'aumento nei casi della provincia di Milano. Sono più 634. Allora, intanto andiamo a vedere i dettagli perché c'è il nostro Lorenzo Santorelli che sta in un'area molto a rischio e in questi giorni purtroppo molto colpita che è quella di Bergamo. Lorenzo. Sì, Milano oggi è stata la città che ha fatto registrare il più alto numero di contagi anche se a livello complessivo è qui Bergamo che c'è la situazione più difficile. Voi prima parlavate delle immagini dei mezzi militari che trasportavano le bare perché non c'è più posto nei forni crematori qui della città. Delle immagini che hanno fatto il giro del mondo e che hanno dato un po' la percezione in tutto il mondo di quella che sia la situazione qui a Bergamo e alla comunità scientifica internazionale si è appellato anche il Papa Giovanni XXIII l'ospedale che vedete alle mie spalle che ha lanciato un messaggio in inglese abbiamo disperatamente bisogno di strumentazione medici e infermieri e i medici dall'estero arriveranno anche per consentire l'apertura dell'ospedale da campo gestito dagli alpini un ospedale che dovrà dare ricovero a circa 200 pazienti la regione ha detto che in 3-4 giorni sarà possibile realizzarlo dopo che era stato stoppato il progetto proprio per la mancanza di medici da durani dovrebbero cominciare i lavori e vi lascio immaginare insomma quello che sia il sollievo per una città dove i posti in terapia intensiva ormai sono finiti da giorni vi restituisco la linea grazie allora la situazione è appunto grave la Lombardia è allo stremo vice ministro e purtroppo abbiamo sentito che i numeri delle vittime hanno superato quelli della Cina la carenza di medici in questo momento come diceva anche il governatore Emiliano è oltre che delle attrezzature non ci sono supereroi ci sono degli eroi ma supereroi purtroppo ancora non ci sono si parla di una task force di 300 medici volontari è così? sì verranno fatti arrivare nei territori appunto lombardi che sono più sotto stress 300 medici che arriveranno da altre parti dell'Italia per supportare il lavoro di quelli che sono in trincea mi conceda al termine per tutelare la vita delle persone tenga presente che abbiamo anche una percentuale chiaramente di personale sanitario che si è contagiato e che quindi non può più operare e c'è una situazione chiaramente complessa dopodiché mi permetta anche di fare un po' di chiarezza e alcuni numeri sul materiale in regione Lombardia sono stati garantiti solo negli ultimi giorni più di 200 respiratori polmonari che sono quei respiratori che permettono di far respirare aria salubre diciamo cioè aria sana al malato per fare in modo che si possa riprendere nei tempi che però sono necessari attualmente quindi verranno garantite oltre a questa implementazione altri respiratori tenga presente che noi e poi più tutto il percorso delle mascherine noi abbiamo bisogno più medio e media di 2,5 milioni di mascherine al giorno tra personale sanitario personale che opera nelle aziende tutte quelle aziende che stanno continuando a lavorare per garantire i nostri supermercati le nostre farmacie i nostri servizi essenziali anche per esempio la raccolta rifiuti che spesso ci si dimentica ma è tutto un lavoro fondamentale abbiamo oggi stipulato col ministro Di Maio un accordo per avere 100 milioni di mascherine e chiaramente stiamo anche lavorando per riconvertire una serie di aziende in Italia alla quale sono state bloccate le forniture chiudo dicendo anche delle belle notizie che siamo riusciti anche oggi a sbloccare invece una serie di forniture che erano state comprate ma erano bloccate per esempio in Turchia in Egitto quindi materiale ne sta arrivando e si è attivata la protezione civile per la distribuzione su tutta Italia con una ripartizione chiaramente considerando l'emergenza lombarda ma che garantisca il servizio ovunque nel frattempo volevo dirvi che è arrivata una notizia che parla di una telefonata perché il capo dello Stato Sorgia Mattarella ha telefonato al sindaco di Bergamo Giorgio Gori per esprimere la sua vicinanza e solidarietà al popolo bergamasco e ha invitato a tenere duro Mattarella come apprende Lanza da fonti del comune di Bergamo si è detto addolorato per la vicenda che sta attraversando la città ha espresso tutta la sua vicinanza e solidarietà ai bergamaschi e al suo sindaco governatore lei intanto ha messo in quarantena tutti quelli che sono arrivati in quel famoso weekend della prima chiusura della zona rossa loro sono attualmente ancora in quarantena guardi ne abbiamo 23.676 che si sono autosegnalati e posti in quarantena effettivamente il collasso della sanità lombarda ha spinto tantissimi pugliesi a rientrare in Puglia lei immagini che Milano è la seconda città della Puglia nel senso che ci sono più di 200.000 pugliesi a Milano quindi è stato inevitabile che una parte di loro pensasse di trovare salvezza ritornando a casa ma questo ovviamente ha significato un sovraccarico improvviso per il nostro sistema e soprattutto un rischio di contagio supplementare comunque ormai è andata sono rientrati credo che man mano stiano rientrando un po' da tutto il mondo in tutte le regioni italiane coloro che erano fuori anche in paesi non tra virgolette pericolosi ai fini del coronavirus ma è evidente che è un istinto in situazioni di pericolo tornare a casa dai propri cari e probabilmente anche in situazioni che si immaginano meno rischiose in ogni caso il nostro sistema sanitario è stato ridischierato come ho detto prima riorganizzato completamente per esempio casa sollievo della sofferenza all'ospedale di Padre Pio visto che oggi siamo in tema è stato completamente o in gran parte adibito alla gestione del covid e quindi voglio ringraziare sua eminenza Barolin e il Vaticano per averci concesso questo importantissimo ospedale per la lotta contro il covid ma a due passi il Policlinico di Foggia aveva già fatto lo stesso straordinario salto stiamo attrezzando i parcheggi degli ospedali con i container pronti ad accogliere i ventilatori che arriveranno io mi auguro che ci arrivino gli stessi ventilatori della Lombardia perché in Lombardia smetteranno di averne bisogno e ce li manderanno questo è il mio augurio in modo tale che qui arriverà a parte l'epidemia e che da loro sarà già finita e sarebbe quello l'ideale la tempistica cioè riuscire a gestire il tempo ma il tempo si riesce a gestire solo se i cittadini ci vengono incontro mantenendo l'isolamento perché così si liberano degli apparecchi di ventilazione e possono essere utilizzati altrove adesso io vi voglio far conoscere una storia perché raccontiamo tanti numeri parliamo tanto dei numeri ma ci sono numeri che sono fatti da piccole grandi storie allora questa è quella del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Giangrande ve lo ricorderete è rimasto gravemente ferito in un attentato davanti a Palazzo Chigi era il 2013 adesso è il risultato positivo al covid lo ha intervistato la nostra Sandra Cecchi maresciallo com'è questo virus lei che l'ha incontrato questo virus non avvisa nessuno perché ti passa vicino e si possessa di te non sai neanche quello che ti accade perché magari io sono stato un asintomatico Giuseppe Giangrande ha visto la morte in faccia nel 2013 quando rimase gravemente ferito nell'attentato davanti a Palazzo Chigi si è poi dovuto reinventare una vita sulla sedia a rotelle e infine ha incontrato anche il coronavirus però vi posso garantire che è una bruttissima esperienza qual è il messaggio che lei si sente di mandare? io sto notando vedendo assolutamente il comportamento di tantissime tantissime milioni di cittadini italiani che per scuse banali per scuse banali escono fuori di casa non sanno a che cosa vanno incontro non sanno che se sono positivi allargono la pandemia devono rimanere a casa ebbè sono parole importanti quelle che abbiamo sentito che toccano veramente il cuore andiamo a vedere che cosa succede in Spagna dove c'è il nostro inviato rapidamente perché siamo un po' in chiusura Gianmarco perché la Spagna è praticamente nostra sorella in questo momento crescono i contagi e volevo sapere come loro si informano su quello che succede in Italia perché è quello che succederà a loro a breve purtroppo Qua è come se vivessimo quello che già viviamo in Italia dieci giorni indietro e quindi si guarda con grande interesse sui media locali anche nelle opinioni pubbliche vi faccio un esempio i camion che purtroppo trasportavano le bare a Bergamo qui hanno avuto grande risalto sui media nazionali grande commozione ricordiamo che l'ultimo bollettino parla di 18.000 contagi 793 morti un'ultima annotazione quale misure sono molto più restrittive che in Italia insomma hanno cominciato più tardi ma sono più avanti da quel punto di vista e mi rivolgo anche ai nostri illustri ospiti due misure una che riguarda per esempio la possibilità di andare a correre qua è del tutto vietato e l'ultima notizia da domani si potrà andare in auto solo una persona per auto e questo non avrà nessuna deroga neanche per noi giornalisti che dovremo andare lavoriamo in truppo lavoriamo in squadra dovremo andare uno per auto quindi la difficoltà anche di informare la difficoltà di raccontare quello che succede queste le misure che non prevedono deroga qui in Spagna perché ovviamente il virus aumenta e aumentano i casi aumentano in modo davvero esponenziale soprattutto a Madrid grazie Gianmarco 30 secondi per chiudere governatore si affaccia tra l'altro una stragione turistica la Puglia è una meta molto ambita da diciamo tutto il mondo viene a vedere le bellezze della Puglia d'estate tra l'altro si rischia quindi che degravare su un'altra voce importante di questa regione per noi il colpo è stato durissimo perché eravamo in piena ascesa la Puglia era una delle mete imperdibili del turismo internazionale la Lone Planet ci ha premiato a Firenze l'anno scorso al fianco di Madrid quindi cose veramente straordinarie ma in questo momento noi dobbiamo combattere per salvare la vita forse di una persona che avrà 90 anni ma non contano per noi sono importantissime queste persone e come ho detto all'inizio dobbiamo fare di tutto per salvarle poi ce le porteremo anche al mare mi auguro il mare bellissimo della Puglia che Papa Francesco ha definito in modo commovente il mare più azzurro che io abbia mai visto eh sì questa linea di curare tutti è una linea che rende veramente orgogliosi di essere italiani Vice Ministro c'è stata una buona notizia chiudiamo con una buona notizia un'inversione a U proprio della BCE questo potrebbe dare diciamo una speranza all'Europa e anche all'Italia speriamo che finisca l'Europa dei nani e l'Europa degli egoismi come dico sempre e mi conceda di dire anche una cosa come ha raccontato l'inviato in Spagna l'Europa sta copiando comunque il modello italiano ci sono tutti adeguati sull'esperienza che abbiamo fatto noi e credo che questo sia motivo di orgoglio al di là del fatto che spesso noi non ci amiamo abbastanza ma l'Italia è un grande popolo sono convinto che ci rialzeremo come sempre sono convinta che ci sentiremo ancora in questi giorni grazie Vice Ministro grazie Governatore per il lavoro che fate grazie a voi per averci seguito e ci vediamo domani sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti